Colpo di scena all'interno dell'amministrazione di Cava dei Tirreni. Si è dimesso il comandante della polizia locale Filippo Meluso. Il dirigente del sesto settore del comune metelliano ha presentato qualche giorno fa la lettera di dimissioni accolta dal sindaco a malincuore. Nel prendere atto della decisione, ha detto il sindaco Gravagnuolo, voglio ringraziare il comandante Meluso a nome di tutta l'amministrazione comunale per il proficuo lavoro svolto sin dai primi giorni del suo insediamento, con l'augurio che il suo contributo alla città di Cava rimanga da esempio per il futuro. Durante la processione in occasione del Corpus Domini, Meluso era stato al fianco del primo cittadino così come anche in occasione della processione per Sant'Antonio. Non si conoscono ancora dunque i reali motivi della decisione di abbandonare l'incarico. Durante il rapporto di lavoro con l'amministrazione non c'erano stati problemi, unico evento particolare era stata la lite con l'assessore Alfonso Senatore, durante la quale il primo cittadino aveva comunque preso le parti della polizia locale. Per il resto tutto sembrava andare bene e poi invece ecco arrivare la lettera di dimissioni molto ufficiale nella quale non si fa accenno ad alcuna motivazione. In questi giorni, dopo che la notizia è trapelata, si è parlato del rinvio a giudizio del comandante Meluso durante il processo per una presunta irregolarità di una licenza abusiva di un ristorante della città. La notizia è stata poi smentita da Filippo Meluso in persona che ha riferito di altri problemi. Il comandante dei caschi bianchi in servizio dal 1 giugno 2007 non lascerà l'incarico prima di dicembre.